Era il 17, oggi ne abbiamo 18, quindi il giorno è il numero 8 dell'800, dell'XZ8, è lui, sono loro, e lei, è lui, presentiamo lei, ciao come ti chiami? Lei è Lilli, cubana, sarà la host, sarà quella che trasformerà i quad normali in victory, in super victory, perché con le sue mani farà cose d'oro e vi farà innamorare, non solo del quad, anche di lei, perché è simpaticissima, vero? Eh, non devi dire grazie, devi dire sì, sono simpaticissima, me l'ha detto Andrea, l'ho conosciuto e ci stiamo divertendo insieme, vero? Senza innamorarci, perché altrimenti nasce un casino qua. Lui chi è? Lui è l'esempio di come, come un gruppo Facebook victory team Casale e Monferrato, nasce, si spegne, perché chi parte si ferma, inciampa, e lui cosa dice? No, no, lo prendo in mano io, vero? Assolutamente, mi chiamo Diego e sarò di nuovo in forma con il gruppo di victory in Casale, assolutamente, lo faremo crescere alla grande. Lui adesso ha un Canam e va in armonia con Giuseppe che ha un CF 800 nuovo appena preso, lo conoscerete, victory team Casale e Monferrato, e saranno chi vasso con i loro CF e i loro Canam. Com'è victory team? È da un mese tu che mi conosci, giusto? Un spettacolo, guarda, griffato, cosa posso dire di più? Un spettacolo, è un personaggio, è carico e forte, è rasato come me, facciamo vedere che mira la luna, mira il sol, mira la calma adesso, signor! Siamo forti? Sì, molto. Ti sei divertita, Domenica? Moltissimo. E a chi vasso? Faremo casino? Mi sa che vengono a tutti i raduni, ormai sono prenotata. Ciao ragazzi, non è solo bella lì, lei è bella ovunque, ovunque la guardate, dentro, fuori, nei dettagli. Lei ha cose che sono come le stelle, brillano, e lei sta già brillando, con noi sempre. Perché? Perché ci piace far brillare le cose normali, noi le cose normali non le vogliamo, noi vogliamo le cose speciali. E voi siete speciali come noi. Ciao ragazzi, un saluto! Grande victory, paradise per voi, questo e altro, i colori della natura, il rosso, il blu, il verde, il cielo, il sole. Giornata stupenda, ciao!